ti ho insegnato di fare se non c'è qualcosa di sproloquioso ah ok scusatemi non mi dissocio non ti vuoi dissociare è vero è giusto spiegaci spiegaci il significato di mi dissocio è che io non prendo parte a quello che hai detto attraverso è esatto quindi ti vuoi dissociare da se stesso no 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 quindi io mi dissocio da ciò che è detto topeota anche se in realtà sposto mi apri brocce mi dai permessi e apri dai per i permessi fai una cosa qua droppa il scappaccio al 133 cioè le quanti c'è ah ma li do eh frate io il scappaccio aspetta ne ho 20 nell'inventario eh che io in realtà frate non è che ti vorrei vorrei fare il vasco d'ora ti vorrei dare tipo una mano nel senso no non facciamo il vasco d'ora ah ok e che significa ah facciamo un give tipo si give quanti spettatori stiamo? di solito massimo 4-5 ok ok ehm io in realtà le ho fra chi si iscrive lascia like e gender anzi no chi ehm ci dà dei materiali prende questi al 133 li prendi? ok si li prendi? no non prendere queste armi no 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 naturalmente lo sai quanto ci ho messo andare a prenderle se no come da una cosa adesso vedendo un'altra una cosa sotto ma tu puoi fare i progetti al 130? al 77 no e questi sono i scafossi che si iscrive e lascia like eh però fra se facciamo un altro modo no no così poi ne prendiamo un e andiamo là ne portiamo easy poi ti spiego ti spiego ti spiego tutto guarda ok ti spiego qua è per le persone che devono invitare ti posso dare un oh oh zitto qua è per le persone che devono invitare ok te li fa entrare apri tutti questi muri così poi devi che fare ti entri qua dentro fai la finestra le apri tutte le armi poi poi si devono invitare li apri tutti qua loro vanno qua e fai così e e e così invece qua fai sempre la finestra capito? ok perfetto qua è un castello si si ma no perché ci sarà scritta lol eh no me l'ha fatto un mio amico ce l'hai un po' di mattone? prima l'ha fatta lui poi io per sbaglio l'ho distrutta cioè un mio amico l'ha distrutta l'ho dovuta fare abbiamo già il primo? mi sa? ecco Anna Anna ah è da Xbox Anna guarda savermi si prende Polas Anna ok Polas si ok ragazzi sei Mario ah Mario sono quello di prima sono primi dai sono bravo Mario deve essere dipomato qui al 100 Mario ci pu... Mario se ci dai dei materiali dichiaviamo gli scafosi al 133 eh io non ne ho di materiali e allora niente qui al 130 che vecchio ok eh sì eh io non ne ho Anna 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 eh poi no oh cosa hai più hai più sullo scafosi hai più sullo scafosi te la ridroppo no stai diverso te la ridroppo su no eccolo sta qua sta qua vedi vedi se non ci credi controlla vieni vieni con me vieni con me vieni con me stai tutto il tempo qua Anna eh Anna ci senti? non ci sente? non ci sente basta non ci sente Mario ma ci sentiva? eh no ma rip no non ci sentiva adesso ma ci sentiva fatto sì con la testa e vabbè niente è molto rip dai eh Mario si entra ma ci danno altri giri? eh sì ci sono altri giri oggi tang posso invitare gli amici? eh yes vieni qua per invitare gli amici perfetto eh posso invitare gli amici? eh 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 perfetta che abbasso la voce se no non si sente un cazzo se eh c'è noi il materiale quodunque il materiale no devi stare sempre avanti a me sempre avanti a me io ti invito ti invito ti do tutto quello che ho avanti avanti ancora avanti no si è lasciato l'arma balla sempre devo sentire il rumore eh questo qua c'è un attimo sto così qui oh è entrato un altro è il mio amico posso aprire? guardiero posso aprire? anche io gli scava fossile a guardiero gli devo dare delle armi ok vai dai guardiero guardiero ti hanno truffato delle montamannaie al 64 ho saputo si ancora qua ero mio amico era un mio amico e questo mio amico non sapevo che eri un tuo iscritto e adesso te le ridò me le ridate tutte grazie adesso te le ridò grazie prego guarda cosa ho tenuto aspetta mario adesso ti vado a prendere il scafo forse al 144 ok io mi chiamo un po' ok stessa cosa ma me l'hai già dato no aiuto te lo dato uno solo ok no è al 130 si allora mi date il materiale devi prendere quello 133 buono grazie guardiero hai preso le armi? no fermo guardiero no no guardiero guardiero entra dentro guardiero 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 però ti deve sbrigare un attimo perché poi guardiero sei iscritto al mio canale? ma io già ne ho tanto tempo ok perfetto posso chiederle una domandina? e che vuoi? se lei ci dà un po' di materiali ce l'hai una kit? ma la stupe 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 si si ci dai raggiù raggiù e genera se ci dai ti diamo una scafossa al 133 intanto prendi quella questo qua aspetta ok guarda e lei però c'ha materiali materiali? si si ma hai preso ma hai preso ma l'hai l'inizio a portare lo scafossa al 133 ma no l'hai preso ma l'hai preso l'arma al 133 l'hai preso? troppami le armi al 133 si tre pendi uno scafossa e buttala qua vicino si no al 133 è colosso? dammi prima i materiali si al 133 è colosso? ok ma te Mario hai finito di invitare mi stai sentendo mi stai sentendo mi stai sentendo mi stai sentendo a 144 a 144 si grazie Mario mi ha 200 lui ragazzi ragazzi magari se poi volete aiutare con la vasca d'oro ci fareste un gran favore davu faccio con la vasca d'oro grazie aspetta ok adesso magari qualcuno di voi due vuole aiutare con la vasca d'oro? ok adesso si tieni posso fargli una domanda? lei ha dell'agente da invitare vai a mettere il telefono se tu io si però se Gerardo se se ne va ma aspettate ok guerriero vieni qua ci vuoi dare già le armi perché dopo facciamo la vasca d'oro? eh ma io ti sarò nel vasco si si fra se tu ci aiuti avrai più secondi polos potremmo fare così polos ok guerriero voglio contribuire un altro guerriero puoi buttare delle armi qua ok ti apro mario guerriero mario ti apro vieni vai guerriero butta delle armi qua butta un po' di armi qua no più qua più qua più qua più qua più qua io raga già vi dico l'ultima volta che ho cambiato con te non ho più armi eh bro ma hai visto che te ne ho ridate? poche poche armi poche armi poche raga ah no guerriero no guerriero vai a riprendi tutte le tue armi perché guerriero no ma guerriero non ha niente ha qualcos'altro mario questo qua no perché io ho scambiato quasi tutto per la fai una cosa fai uno suonoro fai uno 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 li spargi un po' in giro va bene? di trappola si di ma fai uno uno un po' in giro non devi spegnere veramente vero senti un attimo io no ok fai troppo fa meglio invitare un attimo e poi le due poi devi trovare uno 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 ninja dodici dove sta ninja dodici troppo troppo magari io uno uno di raggio si qua 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 tutto qua ok no 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 quanto ce n'hai di raggio ce l'hai le armi ce l'hai le armi ce l'hai le armi guarda salti troppo salti troppo fa un po' così eh armi no cioè ci leo ma son forti tutte capito praticamente il mio inventario è fatto eh no si uniscono però vabbè vabbè allora ninja dodici ninja dodici sei amico di mario crash si è lui eccomi ok anche una qua e poi mi troppi le altre che sono rimaste ok ninja sei iscritto al canale di polas si si se c'è scritto er ninja no queste qua no mettili un po' più la vabbè l'ho riprese perchè ok ne metto qua eh su droppene tutte tutte droppene tutte tutte no no ma così vicino no bro un po' più lontano perfetto ok più qua più qua più qua se ne va io vorrei invitare un mio amico che mi sta tornando no se te ne la like che casino ok troppo qua perfetto adesso droppa tutte ok perfetto vabbè qua ci penso io qua ci penso io allora ninja tu sei iscritto al canale di polas tu vuoi invitare altre persone e basta 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 ho lasciato anche like palas ninja è iscritto al tuo canale oh eh si ninja si è iscritto eh vai a prendere uno scafosso al 130 no si devi invitare al pisellino dopo hai ninja hai qualche materiale da darci tipo batterie intanto vado a prendere braggio vado un attimo eh vi posso dare solo questo vado un attimo a prendere vado un attimo a prendere buono buono ah forza buonissimo vado a prendere un attimo il caricabatterie aspettate è anche quello 133 è anche quello 133 vieni grazie io lo vado a prendere eh però quale può prendere le armi aspetta eh però palasso sono finiti gli scafosso al 133 eh ne è rimasto un attimo vabbè vabbè va a prenderlo dai magari regaliamo un altro scafosso ninja sei stato davvero fortunato grazie eh uno scafosso al 133 perfetto ninja vieni un attimo qua eh guarda puoi eh qua non prendere nessuna cioè hai delle armi da darci e le butti qua 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 eh si questa è questa è questa eh ok grazie eh a quanto sono? eh a sette al nove queste le mettiamo ah bene sono sempre buone sono sempre buone sono sempre buone ma queste le mettiamo qua un po' davanti ninja hai qualche amico da invitare che ti voglio un'altra roba eh eh ma eh aspetta no non so no 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 ok allora puoi entrare magari dopo ok eh dopo per la vasca dopo per la vasca si bravo ciao ciao ci vediamo dopo ok pisellino pisellino che si fa i pisellino mi sono andata ma se li mettiamo direttamente nella vasca bro eh quello che voglio fare eh vai 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 faccio il pisellino in 5 non so se si unisce però io l'ho provato ma no se troppiamo un po' di scafose che li troppo o se vuoi una mano eh si si troppa anche te eh che cosa troppa potrei capire che si fa nella vasca d'ora Mario oi il pisellino oi vuoi essere chivato pisello ti diamo armi gratis questo qua vuole dire no eh vieni qua allora ci penso io fa la stessa se vuoi ok eh no dai mi sta posso mettere il tuo gecko le mie aprite eh no queste armi non puoi prenderle me le posso dare eh sì eh raga come fai come ci fai ad entrare raga perché come diceva vai mappa vai clicca mappa e poi fai avvia grazie ok ok grazie grazie basta 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 vabbè pisello partecipiamo alla vasca d'ora vuoi contribuire a qualcosa dove vuoi dare qualche arma e praticamente quando loro danno il via ne possiamo andare in questa volta piena di ammiorate e ce le torna qua torna qua no no e abbiamo no e abbiamo ma quanti le date ma quanti le date ma quanti le date io ne ho due di armia 133 di trappole ma ti ha no firmati ma ce l'hai ma non vede è cieco dai ce l'ho lo scarico va beh eh se non lo vuoi ci vuoi dare delle armi che ci puoi fare la vasca d'oro mante ma anche materiali anche materiali trappole si 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 dai 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 vai da papà va dai dai è tutto chiuso tanto valla è tutto chiuso tante valla è tutto chiuso tanto lo so lo so ce li devi dare a noi pisellur praticamente qua è tutta una cosa piena di armi d'oro prima lo fa Mari poi lo fa Piselino ok grazie ho preso un bulldozer ma quelle sono tutte le tue armi ma no non ci devi dare tutte le tue armi ma non ci devi dare tutte le tue armi due armi riprendi tutto io ho dato un'arma più 70 a tra 143 Mario infatti credo ma ne avevo altre tue armi eccole eccole 140 perché prima ne avevo 90 io ho preso solo un bulldozer epico che gli ho ridato al 136 pure no al 136 non c'è stato niente ah eccolo che no a metà di ciò ah si questo era di drago ma posso riuscire dacci un'arma due un'arma due anche magari qualche materiale ma tipo va bene va bene va bene bro ma tipo quanti secondi sono? no vieni di qua vieni di qua no fermati 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 ma quanti secondi sono tipo? eh pochi perché è vicinissima quindi 5 secondi eh dimmi 5 secondi eh mi puoi dare un altro scaracca ne tiene un altro io no no va bene così guarda ti diamo due tre secondi no due secondi ok adesso devi correre e prendere le armi capito? cosa? devi correre e prendere il maggior numero di armi ti diamo due secondi tre e a me quanti secondi mi date? vai vivello eh uno eh eh ah ha preso ha preso ha preso diciamo ha preso io quanti secondi? tre tre no sempre due sempre due per tutti ok Polast secondo me Polast secondo me ci siamo giusto un po' infamando perché è troppo vicino capito? secondo me dobbiamo prendere le armi e metterle tipo su questo strato capisci? così ci mettono più tempo capi? gli diamo pochi secondi tre due uno via sentilo con quel cazzo di ditino che tra un po' si spacca si spacca si spacca cioè si spacca quel ditino fa brrr vai giviamo un altro po' ok Polast ma quindi me lo puoi fare il regalo? non lo so oh è Doxy è arrivato oh tipo mettiamo così gli diamo tre secondi no che tre secondi? quattro ma ti uno mi vuole a truffare cioè vi ha lanciato lui in acqua chi? uno io lo volevo pigliare aspetta 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 vieni qua toxy aspetta 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 acciu ma ti te l'ha givato no no l'ho scambiato per DC quello scafo ma io ma io ma io di lanciare lo win eccoci ne ho tre Polast dimmi che io sono un guerriero eh dimmi ho trovato un mio amico comunque ci sta ora la cosa è ci sta ora la vasca d'oro quindi quindi devo stare Polast devo fare per rientrare devi iscriverti al canale easy eh sono già scritto io no dico TOXY PRO ti devi iscrivere Polast 2 eh sono già scritto io Polast 2 su che? su Twitch no su YouTube eh già sei scritto toc non è vero sì non è vero sì sono iscritto ma arrivano le tue notifiche Polast 2 sì ti seguo ok dai scrivi in chat scrivi in chat ok aspettai scrivi in chat ho scritto una cosa a casa ci sono a me non mi è arrivato niente ho uno spettato più di qua io ti seguo ma a me non penso vabbè vabbè facciamoli vabbè li faccio mentre tutti e due no sì vai là vai verso di qua di qua di qua vieni vieni entra di qua Riccà vai vai Riccardo entra qui da me ok toglila lana spettrale perché se no è facile toglila Polast Polast secondo me dobbiamo mettergli dobbiamo mettere a tutti il magari tu puoi bloccare un messaggio mentre poi si entra solo con il costruttore o il soldato così non possono far scatti sì vediamo noi c'è al ninja al ninja al ninja vabbè perfetto va bene no Ruggero quell'arma non puoi usarla mi dispiace 3 2 1 via non ha preso niente no tieni nonna si guerriero guerriero venga di qua bene bene venga guerriero passi di qua aspetta torni là un attimo torni di lì un attimo nell'altro box signor guerriero di qua di là fra ma vabbè allora vai 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 lascio stare vai tutto tuo Polast vai vai guerriero corra torna roma roma ea verso la sua occasione polaro e devi correre fa devi correre con un criceto corri corri vai 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 corri 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 madonna santa dai a questi bambini criceti olas questi sono tutti bimbi cricetto vi consiglio di subarvi mentre noi siamo in un edificio così le colpi di anno non possono mangiarvi i polli voi dovete subarvi forse ve lo devo spiegare perchè magari può essere che non abbia capito bruh quant'anno ci sei? no non ho preso niente oh toksipro ma te non hai piaciuto niente eh no ah dai facciamo poverino eh ma c'è ma è troppo lungo flexiamoci ma che non posso no ma lo sai che c'è un po' di coperetto vabbè no perché? ragazzi ho invitato un altro ok? siiii ma che si polas in catarro polas ti ho detto di prendere le cose per il catarro ok prese ci ho dato un 112 112 mi aiuto oh guarda qua quanto sono belle queste arme oh un po' la si sono ancora in live e l'ho visto l'ho visto ma sono migivi qualcosa aspetta mario la finisco polas 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 mi cimpi ehm no no non voglio fare la scataron di pepire che sono qua al muro no vado no vado no vado si deve iscrivere al canale uiii ma le cose stanno fluttuando non stanno fluttuando non stanno fluttuando come ti chiami? no 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 non voglio fare la maschatora cosa vuoi fare? voglio stare con voi no 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 fai la maschatora o niente polas come ti chiami? polas ho staccato due ho dato armi io e posso partecipare? va bene Giovanni va bene va bene entra non vuoi da vai vai ma non ci arrivo aspetta richiudi un attimo uiii cresciuto eh ma ti sviluppo la voglia però 3 è da un tempo almeno di arrivà via vai bro mi sa che si si bro ti ho provato scrivo bella oh ha preso il bulldazzer moddato ah no si l'ha preso ha preso il bulldazzer moddato gg polas posso prendere l'ultimo muro sonoro che è rimasto al 144 bro mi sono iscritto iscritto bella vediamo bella bella ok va bene e adesso viene ghivato entra entra polas posso prendere queste trappole anti anti area e metto altre trappole al 144 aspetta vediamo cosa no vediamo cosa prende e poi vediamo cosa prende ma se usi la cosa sei illegale vai 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 ah preso 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 due scavaposti 130 lo sai che per frappino queste e troppo altre armi accendate ho droppato i muri sonori qui erano miei va bene eh oh no chiudi 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 ci vogliono infamare mi viene l'asma mi viene l'asma mannaggia mi viene l'asma mi viene l'asma dimmi il guerriero tra poco finisce la live eh guarda è sotto le case dimmi il guerriero dimmi il guerriero dimmi il guerriero dimmi tutto dimmi tutto amor man amor man amor polos fermo polos ci sono dei bambini kid che poi fanno un doppio salto fanno dei doppi così così no praticamente ci sto guarda guarda mi vedi tanto questi qua nel box non ci vengono guarda mi vedi allora tu devi entrare metti di qua salta qua polos salta qua e metti di qua al centro stai qua al centro fermo fatti un po' più di là 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 palos 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 no no vabbè aspetta palos così devi metterti qua no più di là così più di là verso il centro eh così guarda mi devi mettere nella stessa posizione in cui sto io e devi andare qua avanti dove sto io ma non è modato il bulldozer fermo 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 è bulldozer è modato ok fermo eh girati vieni a quest'angolo cammina verso quest'angolo vabbè faccio io praticamente i bimbi kid fanno così oppla tu usa la lama spettrale usa la lama spettrale no 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 cioè usa la lama spettrale no 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 hai la lama no no non c'è eh vabbè hai ma la kid io io ho lascio si dovrei ma la vasca d'oro dimmi ma la vasca d'oro un attimo ok ma è finita tanto la vasca d'oro no no lo so ti posso dare delle cose da per la prossima vasca d'oro brava tanto ma si dai guerriero guerriero voleva scammare guerriero guerriero palos guerriero voleva scammare io abbiamo anche givato e vuole scammare guerriero c'è ancora c'è ancora ti meriti l'ergastolo sotto là no ho detto ti meriti l'ergastolo aspetta aspetta ancora 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 provo a stare con voi eh ha già detto ti meriti l'ergastolo ti meriti l'ergastolo ti meriti l'ergastolo adesiva no resina adesiva yes me la puoi dare aspetta dov'è dov'è ecco mac navad mac grazie mac navad per sbaglio ho messo mac droppaci tutto il tormento eh vabbè non l'ho fatta apposta pensavo di togliere il muto che avevo messo il muto ecce ecci 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 posso mettere anch'io vai metti ho mi fatto il rubacuori va bene rubacuori no matti no no illegalmente naturalmente matti matti c'ho 100 aspetta eh mario 143 munizioni polassone 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 vogliono rimanere basta ecci 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 tocci ti spello no no tocci vieni più qua tocci no no ma ti prego ma venire te la live tanti pubblico no non è vero non è vero non è vero non è vero cosa che ho vinto eh intanto eh non siete infiltrato sta via la roba ma cia ma non sto piano niente sto vedendo ma siete dentro posso venire nella mappa posso troppare polassone le cose aspetta troppaceli a noi rica tocci tocci ti spello cosa vuoi e basta eh ma posso rimanere no aspetta giusto un attimo aspetta giusto un attimo tutti quanti voi hanno messo le lette eh un attimo polassone vogliamo andare un po' su battle facciamo venire le ultime tre persone andiamo su battle no le ultime persone e basta cosa c'è eh io io posso venire posso farlo a scambio chi eh io madonna dai polass polass visto che prima ha preso due armi facciamolo arrivare un'altra volta vai vai di là vai di là eh dammi il tempo dammi il tempo eh che faccio lo gifiamo? ce l'hai ma la chiter? si daccio tutta tutta ma ne ho 200 eh dammi tutto il 200 bro no ti facciamo ti facciamo prendere queste tutte le armi no te la passo da 60 va bene 100 e ti prendi tutto no facciamo una cosa tutti i suoi materiali in sé prendo tutto tutti i tuoi materiali vai eh ma c'ho 3 di spettrolite 198 di cor lucente eh e ti prendo tutto ti prendo tutto ehm poi dépensate dichiarate vado 7% di cor lucente uno di scaiyabuglia è 7 tick tip dud guarda ci giungiamo trappone sonora e fra tu sei happy happy ha droppato? ma non li posso dare sono troppi guarda quella, quella non tu siamo droppi ma vedi che fai la scada roffi mario mario vieni di qua mario di là mario se lei vuole tutto ci deve darmi le cose mario vai di là no 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 però prima posso chiedere il mio amico ha givato però non partecipa il mio amico ha givato però non sta partecipando dopo lo posso invitare dacci tutti i metri e ti prendi tutto no no non vuoi far così è normale tocci gli diamo tutto e ora quindi fa normale normale? se ci dai 200 malachite diamo qualche seconda in più no no se dacci 60 malachite diamo qualche seconda in più no no 60 malachite quanta malachite? 60 60? e quanti secondi mi dai in più? 5, 6 6 e andresti ricca andresti a 8 secondi no non ci riesco ok 8 secondi da quando superi questo pavimento ma aspettate aspettate poi si c'ho l'inventario pieno io c'ho l'inventario pieno quanto spazioi? hai l'inventario pieno? è 96 di 100 ma è troppo qualcosa troppo qualcosa si si troppo troppo che carino che po' carino i gatti prendo io prendo io oh quant'è quella? cos'era? come si chiamava Polas? la spada sottami no Polas Polas si ti posso inviare la richiesta? vai si mandamela te l'ho accettato dopo che quando sono ucciso vai Polas sei sei secondo in più hai detto però eh hai 8 secondi da quando superi qua conto io Polas vai pronto senti un attimo no ancora non ancora invio sta zitto vai 1 2 3 4 eh no fra gli abbiamo dato 4 secondi si ma sono prendeva tutto prendeva tutto eh vabbè però ci sta posso invitare il mio amico però un attimo mi derupa qua Polas oppure la spada che è in mano? quale spada? invidi il mio amico che ho divoto eh 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 ti quella metti la spada le spade che hai sono state 8 persone metti le spade che hai Polas aspettate che si esce il mio amico eh che eh ma fra ti vuoi unire? ragazzi siamo 5 spettatori buono buono Mario se volete poi ok c'è scritto Mario potete entrare magari per fare il tuo amico potete entrare magari per prendere una boccata d'aria Mario Mario vuoi essere l'ultima volta chifato? si ma Mario è stato chifato un batto di volte eh infatti lo so se non batteremo eh non è giusto per le altre persone però ma perché così se Polas eh sì sempre le stesse persone basta raccalla la live più eh ma tu non mi hai dato 6 secondi? eh ma però ti prendevi tutto eh vabbò però io ti ho dato una malattita eh infatti abbiamo dato più secondi di tutti noi abbiamo avuto 2 secondi sappilo guarda che la gente ha avuto ti do altra roba ti do altra roba no ma guarda che la gente ha avuto 2 secondi tutte le persone ma io vado a dire eh ah boh ti posso dare altra roba? Toxie va bene sì però andiamo a fare una cosa più grande Toxie Mario e tutti facciamo una cosa più grande ma cambiate la base o sbaglio? eh no eh no abbiamo rotto solo quello entrate qua ok salite ma non c'è salite tutti madonna mia vedete la facciamo riempi tutto questo io tutto questo abbiamo riempito aspetta fammi entrare no esci esci oh io ho chiesto una blocca che cosa è stato mario mario mandami l'amicizia come si dice l'amicizia amicizia c'è l'apparecchio anche io l'apparecchio ma ma devo andare a farlo a scadoro noi due ok quando? tanto io posso fare live sul pc ti va bene la live lo finisce qua perché raga ho finito le anni raga io le posso mettere io no 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 le metti polos anche io le metto polos voglio mandarti a fullare magari da altri youtuber è quello che ci sto dicendo lo vogliamo fare però però prima aspettate raga devo un attimo parlare con polos potete abbandonare ok no dai troppo un po' di armi magari ci aiuti eh potete magari prima un pochino di armi poi abbandonate no a me non mi toglie polos io sto spondando un po' di alberi che stanno sul campetto va bene no 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 basta basta riprendi queste armi oh infido riprendi poi l'infido infido gatto ridammi 11 trappole tieni grazie ok ciao ciao andiamo a giocare insieme aspetta aspetta mi stanno chiamando si bravi dobbiamo andare ok ciao ok io ok ragazzi uscite uscite ciao posso essere sto io con te ok e si e lai ho finisit ok ciao Grazie a tutti.